Mi pare del tutto evidente che noi ci troviamo in una situazione di grande anomalia, invece di discutere delle questioni che sono urgenti per l'Italia, sanità, pensioni, salari, stipendi, politiche di formazione, energia, stiamo discutendo dei problemi personali del signor Silvio Berlusconi. Visto che ha dei problemi sul versante giudiziario stiamo mettendo sotto sopra tutto il sistema giudiziario italiano, tutto il sistema delle intercettazioni perché Berlusconi ha dei problemi su quel versante lì. È un problema serio per l'Italia innanzitutto rispetto al quale bisognerà dare una risposta netta e chiara a cosa che faremo.